Ben ritrovati, la sfida della politica in Campania tra autonomia differenziata e nuova fase di sviluppo che si è aperta con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ne parleremo oggi con il nostro ospite, l'onorevole Mario Landolfi, che è ex ministro delle comunicazioni, personaggio storico del centro-destra in Campania. Ben ritrovato intanto e grazie per la sua disponibilità. Grazie per l'invito. Allora, intanto come valuta a livello nazionale questa rivincita della destra che è riuscita a portare per la prima volta una donna a guidare Palazzo Chigi? Lei ha avuto un'esperienza da parlamentare molto importante. Come giudica questa svolta? La giudico positivamente. Naturalmente vincere è una cosa, poi conservare il successo è un'altra cosa. Quindi non spero, il mio auspicio è che la destra al governo non esaurisca la propria carica solo nell'azione amministrativa e nell'azione di governo, ma che pensi anche all'aspetto politico che è molto importante. Quindi concentrarsi sui problemi, risolvere i problemi, ma nello stesso tempo non dimenticare anche lo strumento partito, perché la politica serve. Non vi può essere un buon governo se non vi è una buona politica. Ecco, intanto, onorevole, in questi giorni fa discutere la manovra del governo Meloni. Proprio qui in Campania il sindacato è sceso in piazza. Secondo lei si poteva fare di più per famiglie e imprese? Ma lo sciopero in costanza di approvazione di leggi finanziarie è un po' un rito, perché i sindacati lo hanno fatto anche in presenza di altri esecutivi e di altre manovre finanziarie. C'è un dato politico rilevante in questo caso e che riguarda l'assenza della Cisla dalle manifestazioni. Gli scioperi li portano avanti solamente CGL e Will, naturalmente lamentando alcune cose. Però è anche vero che questa è una manovra che ha dei tratti sociali pronunciati nelle condizioni date, perché gran parte delle risorse sono state utilizzate per contrastare il caro energia, come tutti già sapevano. Quindi diciamo che c'è stato ben poco da destinare ad altre voci, ma quel poco che è stato destinato va sicuramente incontro, incrocia il disagio che si respira negli strati più bassi della popolazione, quelli più disagiati. Sul fronte economico, almeno qui in Campania c'è qualche timore per il reddito di cittadinanza, sicuramente questa misura andava cambiata, cancellarlo che riflessi potrà avere secondo lei dal punto di vista sociale in un territorio che vive chiaramente una condizione di grande difficoltà? Sul reddito bisognerebbe parlare un pochino il linguaggio della verità. Un conto è la misura assistenziale che secondo me va conservata perché vi sono effettivamente sacche di disagio che vanno contenute e vanno assistite. Un conto sono le politiche attive del lavoro. Sotto questo profilo l'erogazione del reddito ha registrato solo clamorosi fallimenti. Quindi parlare di abolizione può apparire semplicistico e anche controproducente. Insistere invece sul dato della introduzione di materie che possono veramente favorire il lavoro è un'altra cosa. Però io andrei cauto sull'abolizione sicchetti simpliciter del reddito di cittadinanza perché in alcuni casi, in molti casi, ha dato quel minimo di sussistenza a persone che vivevano veramente in condizioni indicibili. Certo, insomma è stato comunque un aiuto. Poi sarebbe tutto un ragionamento da sviluppare rispetto al fatto che il mezzogiorno è la parte del territorio nazionale dove più noi registriamo lo strumento del reddito di cittadinanza. Questo ci deve far pensare. Il governo deve agire con molta circostrazione, con molta cautela e distinguendo la parte del reddito come assistenza da quella del reddito come misura proattiva per il lavoro. La prima ha una funzione, la seconda va modificata. Da agitare il dibattito politico in questa fase è anche il discorso relativo alla riforma dell'autonomia. Lei tra l'altro ha scritto un libro, La Repubblica di Erlerchino, così il regionalismo ha infettato l'Italia. È davvero questa una priorità, secondo lei? Tra l'altro stiamo vedendo anche le immagini dell'incontro tra il governatore De Luca e il ministro Calderoli che avrebbe prodotto, almeno a giudicare dalle dichiarazioni del governatore, dei primi risultati. Questa autonomia è davvero la priorità, secondo lei? L'autonomia è un feticcio ideologico che viene agitato da alcuni governatori regionali, ma che non incrocia nessuna esigenza reale. Cioè vorrei che qualcuno mi spiegasse quali obiettivi, quali risultati abbia centrato il regionalismo. Noi abbiamo da 21 anni il nuovo titolo quinto della Costituzione che ha dato alla regione tanti poteri. Però se andiamo a vedere le performance delle regioni, sono molto deludenti, a cominciare da quella contro il Covid. Il libro che lei ha citato, io l'ho scritto proprio osservando l'esperienza di governo regionale di fronte alla pandemia. Quando ogni regione è fatto da sé, ogni regione si è illusa di poter contrastare l'epidemia con risultati molto deludenti. Quindi a che cosa serve questa autonomia e a che cosa serve questo federalismo? Il federalismo è un metodo per raggiungere l'unità. Ma l'Italia è un paese già unito. Se noi vogliamo farlo diventare federale vuol dire che lo vogliamo spaccare. Io le cito solamente un dato. Dal 50 al 71, nel 71, con la famigerata, vituperata, esecrata, cassa per il mezzogiorno, si è registrato il minimo divario tra nord e sud. Nel 71 il reddito, il pil pro capite di un cittadino del centro-sud raggiungeva il 61% di un italiano del centro-nord. 20 anni prima era il 53%. Quindi in 20 anni si è registrato con quella salita di 8 punti il minimo divario tra nord e sud. Oggi il divario si è allargato e noi invece di ridurre le distanze, invece di cambiare terapia, noi vogliamo insistere nella stessa terapia che ha allungato e allargato il divario tra nord e sud. Questo è il federalismo all'italiana, questa è l'autonomia. Far stare meglio chi già sta bene, far stare peggio chi già sta male. E questo non è una terapia che serve, è qualcosa che è assolutamente dannoso. Quindi fanno bene i governatori del mezzogiorno ad essere in qualche modo preoccupati? No, i governatori del mezzogiorno farebbero bene a spendere bene i soldi che hanno e naturalmente a ragionare in termini nazionali. Invece la sensazione che ho è che alzano la voce, fanno l'incontro, vengono tenuti in considerazione e poi tutto passa. Il problema non si risolve attraverso intese tra governatori, il problema è nazionale. Bisogna invertire la tendenza. Il regionalismo è un'infezione del nostro Paese, è un guasto. Bisognerebbe anzi riportare alcune competenze a livello centrale, a cominciare proprio dalla gestione della sanità, della salute. Noi stiamo facendo una impalcatura roccocò dell'Italia, siamo i leppi, lea, tutte queste cose che significa moltiplicazione di burocrazie, moltiplicazione dei centri di spesa, farraginosità nelle procedure, c'è tutto il contrario di quello di cui l'Italia avrebbe bisogno. Anche il Nord, perché il Nord dell'autonomia se ne frega, al di là di quello che pensano e dicono Zaia e altri. Il Nord vuole meno tasse e meno burocrazie, ma anche al Sud si vogliono meno tasse e meno burocrazie. Intanto a proposito della prospettiva del mezzogiorno, di questa nuova questione Sud, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può rappresentare, secondo lei, una svolta per rilanciare sviluppo e occupazione? O rischia di essere, come già ascoltando alcuni appelli di amministratori locali, rischia di essere un'occasione a rischio, mancata in qualche modo? Spero di no, c'è un dato da evidenziare, l'Italia ha avuto più soldi rispetto ad altre nazioni europee nel PNRR, perché l'Italia è la nazione che evidenzia il più largo divario tra zone dello stesso Paese, ce ne abbiamo avuto più soldi perché abbiamo il Sud, quindi è chiaro che la prima cosa da fare è vigilare sulla destinazione delle risorse, poi chiaramente esiste un problema di implementazione ed esiste un problema di spesa nelle amministrazioni locali, cioè è difficile rispondere a tutta la procedura che ha imposto l'Europa, quindi io spero che il Governo centrale faccia, in qualche modo, da guida alle amministrazioni locali, anche alle regioni, ma soprattutto ai comuni, perché questi soldi si possano spendere tutti e bene. Ecco, per chiudere questa nostra intervista possiamo dire che questa, se vogliamo, è una sfida anche per la classe dirigente del Mezzogiorno, Guido d'Orso sperava nei cento uomini d'acciaio, lei come, alla luce della sua grande esperienza politica, come giudica la classe dirigente di oggi? No, ma non mi permetto assolutamente di giudicare, io spero, lo dicevo in apertura, che possano in qualche modo ritrovare forma e ruolo i partiti. La politica si fa attraverso i partiti, i partiti esprimono istanze collettive e, diciamo, servono a, concorrono a formare l'indirizzo politico. Oggi quello che manca è proprio questo strumento. E quindi spero che tutti i partiti, tutti quelli che esistono oggi, che noi chiamiamo partiti, diventino realmente tali, cioè facciano, si diano un'organizzazione, una struttura tale, si dotino dei centri studi necessari perché c'è bisogno di studiare i problemi. E l'Andolfi dove si colloca? Ma l'Andolfi è un battitore libero, osserva con interesse. Sempre nell'area di centro-destra. Sempre nell'area di centro-destra, beh certo. Anzi direi di destra, perché la mia storia è una storia politica nata e che si è sviluppata all'interno della destra italiana. Sono nato nel Movimento Sociale Italiano, poi sarà con l'Alleanza Nazionale e infine il Popolo della Libertà. Quindi la mia è una storia targata. Certo. E in bocca al lupo per il suo impegno, anche per il suo libro. Grazie. Grazie, grazie. Che ci ha gentilmente regalato. Grazie e complimenti appunto per il lavoro che sta portando avanti. Ringraziamo l'Onorevole Mario Landolfi, lo ricordo, ex Ministro delle Comunicazioni. Io ringrazio in regia per noi Orlando Matarazzo. Grazie a quanti ci hanno seguito. Arrivederci. Grazie.